E' un sindaco irritato ma contemporaneamente deciso a tirare dritto per la strada tracciata quello che ieri sera Gualdo Tadino ha tenuto un incontro con la stampa ma non solo, erano infatti presenti imprenditori, operai e artigiani per affrontare la questione dell'ex consorzio agrario. Il momento era più che opportuno visto che sabato alle 16.30 il Consiglio Comunale Gualdese si troverà a discutere da un lato la richiesta di referendum popolare promossa da Sinistra per Gualdo e sostenuta da 700 firme per chiedere lo stop al progetto, dall'altra la variante al PRG per dare il via ai lavori. Per la cronaca, per accogliere la richiesta di referendum serve il sì dei due terzi della sise cittadina. Il sindaco Morroni non ci sta a fermare il progetto del granaio, 11 milioni di euro di investimento privato, imprenditori tutti i locali, per un'opportunità di lavoro per i prossimi due anni di 400 addetti del settore per costruire un complesso di uffici, negozi ma anche un auditorium pubblico da 400 posti. Gualdo, ha detto, non si può permettere in questo momento di perdere questa occasione di lavoro ma anche di sviluppo. C'è rispetto nei confronti delle 700 persone che hanno firmato la richiesta di referendum ma sono 700, dice, non 7 mila, non cioè la metà dei gualdesi e un gruppo di persone non può fermare le aspettative di un'intera città. Morroni fa intendere che il progetto granaio non è solo strategico ora per l'opportunità di dare lavoro ad un comparto, quello edile sull'orlo del baratro, ma anche per il futuro perché quell'auditorium andrà a colmare un vuoto importante in una città che si vuole presentare nel panorama dell'accoglienza turistica, ovvero l'assenza di un auditorium per la convegnistica. Lo avremo a costo zero per le tasche del comune, spiega Morroni, e questo in tempi in cui non abbiamo soldi nemmeno per tappare le buche delle strade non è cosa da poco.